Un segnale di questo tipo fuori da quest'Aula. Grazie. È iscritta a parlare... Onoreo Palese, prego. No, scusi Onoreo Palese, avevo visto forse Onoreo Carfagna prima. È uguale, basta decidere perché poi l'altro parla a titolo personale. Prego Onoreo Palese. Sì, grazie Presidente. Io la ringrazio per il suo intervento autorevolissimo, come sempre, però non è mica possibile che non ci sia una stretta attinenza come previsto dal regolamento in riferimento agli emendamenti che si discutono. Si scivolici invece in tutt'altre discussioni che esulano da quello che è il merito degli argomenti e che poi insomma ci sono anche abbastanza insultanti rispetto a tante persone che non sono presenti qui neanche per potersi difendere. Grazie. La ringrazio Onoreo Palese, a titolo personale. Grazie Presidente. Anche io le chiedo di stigmatizzare gli interventi fatti dai colleghi del Movimento 5 Stelle. Capisco l'ansia e l'esigenza di visibilità, ma noi rispediamo al mittente queste accuse inaccettabili e ricordiamo che Forza Italia è stata, soprattutto quando è stata al Governo, in prima linea nella lotta alla mafia, alla camorra e alla criminalità organizzata. Quindi non cadiamo nelle provocazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle, ma le chiediamo, Presidente, di stigmatizzare quanto è stato detto. Grazie. Credo di averlo fatto, Nel Garfagna, comunque la Presidenza starà sicuramente più attenta, anche perché è del tutto evidente, adesso è scritta a parlare, Onoreo Vecchio, che da questo momento, per quanto mi riguarda, ci sarà l'applicazione rigida del regolamento. Quindi comunico a tutti, prima che si alzino proteste, che chi non parla sull'emendamento io gli tolgo la parola. Prego, Onoreo Vecchio. Grazie, signor Presidente. Io non so se sarò fuori tema, ma il tema del quale voglio parlare è la mafia e l'antimafia. Si fa un eccessivo abuso del termine mafia e altrettanto eccessivo abuso del termine antimafia. Viene considerato un distintivo, un'etichetta da appiccicare al bavero della giacca o alla camicetta della donna solo per darsi un atteggiamento. Onoreo Vecchio, non sarà semplice la condizione della Presidenza nei prossimi minuti, la preghiera di darmi una mano. E io le do una mano. I miei emendamenti lo so. Io sono un testimone vivente dell'antimafia. Vivo scortato dal primo di ottobre del 2007 per essermi ribellato fin dal 1982 alla mafia e posso essere testimone di come ci si comporta in questi momenti. Non bisogna mai strumentalizzare né la mafia né l'antimafia, ma essere uomini e uomini veri davanti a questi fatti. Grazie. Presidente, mi scusi, come si può censurare l'intervento di qualche parlamentare in materia di 416 terzi e si parla di Cosentino? Come può lei ritenere che siano argomenti dissidenti? Grazie. Grazie.